Un giorno arriva uno, un giorno arriva un altro, alla fine quello che conta sono i giocatori che arriveranno e quindi vedremo di qui a fine gennaio che arriverà. Innanzitutto è una situazione difficile perché credo che si parla di un campione, un giocatore che Real Madrid ha strapagato e quindi credo che queste situazioni solo Gagliani può riuscire a risolverle. No, vedremo, mancano sette giorni alla fine del mercato, vedremo chi potrà arrivare e comunque sicuramente la società sta lavorando molto bene e ha l'intenzione, se ce ne fosse la possibilità, di andare a migliorare quella che è la rosa attuale che è già molto buona. C'erano state voci, ma ci sono state tante voci, sia in uscita che entrata, Abate credo che rimarrà un giocatore del Milan. Robinho è un grande campione e il Milan di qui a giugno ha bisogno del vero Robinho, è un giocatore di grandissima qualità, di grandissima personalità e quindi sono contento, molto contento che sia rimasto.